Prima è saltato un impianto elettrico, poi sono andate in fiamme prese e cavi elettrici. Quindi sono bruciati alcuni elettrodomestici e il fuoco si è esteso ai mobili di un appartamento distruggendoli. A partire dal 15 gennaio 2004 a Canneto, una frazione di Caronia in provincia di Messina, brucia di tutto e nessuno riesce a capire perché. Subito si fanno le ipotesi più incredibili. Poltergeist, infestazioni demoniache, invasione aliena. Ecco perché quando il mensile focus mi chiede di andare a Canneto per un sopralluogo, accetto immediatamente. Preparatevi perché sto per raccontarvi la storia dei misteri di Caronia, di quello che le indagini sul posto, anche quelle mie del CICAP, hanno potuto accertare e di quello che è successo in seguito. E lo faremo oggi qui a Strane Storie. Il mistero incendia Canneto, frazione di Caronia in provincia di Messina. Il 15 gennaio 2004 impianti elettrici ed elettrodomestici prendono fuoco per motivi che nessuno riesce a spiegarsi. Si tratta all'inizio di qualche guasto che si verifica in casa di una persona, il signor Nino Pezzino. Poi però i danni dilagano, anche nelle case circostanti. E ai primi di febbraio, visto che non si riesce a limitare il fenomeno e ci sono rischi per l'incolumità degli abitanti, è costretta a intervenire la protezione civile. Il sindaco, Pedro Spinato, dispone l'evacuazione per le 39 persone del caseggiato. Arrivano tecnici dell'Enel, della Telecom e funzionari della rete ferroviaria. All'inizio, infatti, si pensa che i problemi siano dovuti a possibili dispersioni elettriche della linea ferroviaria Messina-Palermo, che passa proprio a pochi metri dalle case. Il 10 febbraio il caso scoppia sui media. Prima nazionali, poi internazionali. Il mistero di Canneto di Caronia. Oggi sono arrivati i vulcanologi a Canneto di Caronia. Anche un team di psicologi per assistere la popolazione a Caronia. Ancora misure fra le case di Canneto. Immediatamente i giornali parlano di fenomeni di autocombustione, oppure fenomeni dovuti al geomagnetismo e alle reti di Hartmann, di poltergeist, fino al satanismo e alla infestazione demoniaca, come sostiene Padre Amort. A un certo punto si arriva anche a parlare di misteriose armi futuristiche e addirittura di UFO. L'ingegnere Tulio Martella, dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, si sbilancia in tv e sui giornali dicendo «quello che si sta verificando in questa zona è un fenomeno inspiegabile, certamente un caso anomalo, posso dire con certezza che non si hanno precedenti del genere, neppure a livello nazionale». Chissà, forse il fenomeno è davvero inspiegato, ma è difficile che sia inspiegabile, come l'indagine che avrò modo di condurre personalmente, che poi sarà portata avanti da Marco Moroccute, anche lui del CICA, potrà chiarire sin dall'inizio di questa storia. Bentrovati i naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare misteri e magari collaborare con me, più avanti vi spiegherò come fare. E vi racconterò ancora qualcosa su Geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, che è uscito da poco in libreria per Feltrinelli, in cui condivido le lezioni che ho imparato dal mio maestro James Randi. Ma ora torniamo in Sicilia, a Caronia, nel febbraio del 2004, quando il mensile Focus mi chiede di andare a indagare sui misteriosi incendi che si verificano in quel gruppetto di case sul mare. Da prima abbiamo pensato a difetti di fabbricazione o al surriscaldamento degli impianti. Abbiamo chiamato i tecnici che hanno riparato i guasti. Ma il problema ritornava sempre. E poi, quando gli incidenti si sono moltiplicati, si sono fatti più gravi, abbiamo chiesto l'intervento dei vigili del fuoco ed è scattato l'allarme. Queste sono le prime parole che mi ha detto Antonino Pezzino, la persona nella cui casa tutto era iniziato e che era poi diventato il portavoce degli abitanti di Canneto. Sono arrivati i tecnici dell'Enel, della Telecom, esperti della protezione civile e anche funzionari della rete ferroviaria. A ridosso di Canneto, infatti, come dicevamo, passa la linea Messina-Palermo, un particolare che ha indotto alcuni a pensare che i problemi fossero dovuti a possibili dispersioni elettriche legate all'impianto che alimenta i convogli. Gli incidenti tuttavia hanno continuato a verificarsi anche in assenza di energia elettrica, quando cioè era stato attuato un volontario blackout in tutto il caseggiato. Con Canneto al buio, gli elettrodomestici continuavano a bruciare e al sindaco Petro Spinato non era stato altro da fare che disporre l'evacuazione del paese. Non ho avuto alternative, mi ha detto. Non potevamo certo restare a guardare, col rischio che si verificasse una tragedia. Nei titoli dei giornali cominciano allora a fare capolino le teorie più sensazionalistiche. Ma per il momento sembrano ancora delle ipotesi quasi scientifiche. C'è chi parla di magnetismo generato dal sottosuolo, secondo quella ipotesi mai dimostrata dei reticoli di Hartmann, bruciature dovute al passaggio degli elusivi fulmini globulari, oppure di fenomeni legati alla presenza di masse magmatiche nel sottosuolo capaci, secondo alcuni, di produrre variazioni nei campi magnetici, quindi di interferire sugli apparecchi elettrici. Poi, visto che nessuna di queste ipotesi spiega in realtà niente, ecco, arrivare le teorie più ardite. Per alcuni giornali il paese sarebbe preda di fenomeni paranormali incontrollati. Sarebbe cioè il caso dei poltergeist, lo spiritello burlone in vena di scherzi. Altri parlano di dischi volanti, fino ad arrivare all'esorcista Gabriele Amort, che con invidiabile sicurezza sentenzia «è opera del diavolo che, come è noto, si manifesta attraverso gli elettrodomestici». D'altra parte è così noto. Ma quale demonio? Protestano gli abitanti di Canneto. 39 persone evacuate e costrette a rifugiarsi in albergo o dai parenti. Noi non crediamo alle spiegazioni paranormali. Chiediamo solo di sapere che cosa è successo nelle nostre case. Quando parlo con il parroco della chiesa dell'Annunziata, Antonio Cipriano, la risposta è identica. Quella satanica è un'ipotesi assurda, mi dice. Gli abitanti di Canneto sono gente laboriosa, che ogni giorno fatica per portare a casa il pane, altro che satanismo. Ma il caso di Caronia non è l'unico del genere. Anche in passato è successo qualcosa di simile. Nel 1984, nella sede romana dell'Inail, scoppiano incendi che bruciano carte, fotocopie e altro materiale. A Cesena, nel 1988, dalla canonica di una chiesa partono incendi che non si sanno spiegare. A Milano, nel 1990, nella casa di una famiglia, scoppiano piccoli incendi e cadono immobili. Si parla apertamente, in questo caso, di poltergeist. Lo stesso anno, a San Gottardo, frazione di Zovencedo, provincia di Vicenza, si verificano fenomeni simili a quelli di Canneto, interruttori della luce bruciati, tende parasole liquefatte, persino una carrozzella in fiamme. Si parla anche qui apertamente di UFO e di extraterrestri. Ancora a Piacenza, nel 1991, si verificano inspiegabili incendi che si pensa dipendano dagli strani poteri di una bambina. A Legnano, nel 1998, presso lo studio di un commercialista, si verificano strani fenomeni di combustione e si pensa a bizzarri effetti elettromagnetici. Come stanno le cose? Beh, in realtà, in alcuni di questi casi, come a Milano, Piacenza o a Legnano, anche grazie all'intervento del CICAP, si è potuto indagare e scoprire che gli incendi avevano una natura dolosa. Nei primi due casi erano stati dei bambini che, attraversando momenti difficili dell'adolescenza, avevano inscenato gli incidenti per attirare su di sé l'attenzione. A Legnano, invece, la polizia poteva accertare che si era trattato di sabotaggio da parte di un impiegato scontento. Un sabotaggio si sospettò anche nel caso dell'Inail di Roma. Gli episodi di Zovencedo costituiscono quindi il caso più simile a quello di Caronia. Gli esperti chiamati in Sicilia, però, escludono ancora una volta le spiegazioni più assurde e si mettono al lavoro per capire che cosa stia realmente succedendo. Ho inviato alcuni vulcanologi, mi dice Enzo Boschi, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a fare misurazioni tecniche su eventuali movimenti magmatici in profondità. Ma non si è trovata alcuna indicazione sulla possibile influenza vulcanica e sismica. Se davvero si trattasse di un'attività vulcanica, l'effetto non sarebbe solo la bruciatura di qualche filo elettrico. Quanto al campo magnetico terrestre, è troppo debole per generare fughe elettriche così importanti. Le forze interne alla Terra non possono provocare reazioni di questa portata, e soprattutto in un'area così ristretta. Se davvero ci fosse un'attività magmatica, le eventuali ripercussioni sarebbero evidenti in aree decisamente più estese. Per ora non è emerso nulla di rilevante, mi conferma anche Giuseppe Maschio, ordinario di Impianti Chimici a Messina, incaricato dalla Protezione Civile di coordinare i vari esperti. Il Ministero delle Telecomunicazioni ha misurato i fenomeni elettromagnetici. I tecnici dell'Enel e delle Ferrovie hanno cercato eventuali dispersioni. Ebbene, non hanno trovato niente di anormale. Si è anche proceduto a un controllo del campo magnetico a bassa frequenza e a misure del campo magnetico a ridosso della linea ferroviaria. Ma non si sono riscontrate alterazioni sostanziali nei parametri misurati. I carabinieri del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico, hanno inoltre compiuto una serie di rilevamenti che hanno permesso di escludere anche eventuali tracce di radioattività. E allora? Da cosa dipenderebbero i vari episodi registrati nella zona? L'ipotesi su cui lavoriamo è quella di un incidente tecnico, di cui però non si conosce ancora la causa, mi spiega sempre maschio. Sarà davvero così? Dall'incidente tecnico all'impianto fatto male e all'intervento umano il passo è breve. Personalmente mi sembra tutto molto strano, mi dice ancora Boschi. L'area è talmente ristretta che diventa difficile pensare a fenomeni naturali. Non escludo quindi che dietro possa esserci un fatto doloso. Mi limito a sottolineare un dato oggettivo. Da quando è stato sgombrato il paese non risulta più alcun fatto straordinario. Quando chiedo di poter vedere più da vicino, il responsabile locale della protezione civile mi accompagna all'interno della zona evacuata e mi viene data la possibilità di esaminare gli oggetti bruciati, i cavi e le prese di corrente. La cosa strana che si nota subito è che il calore ha annerito e bruciacchiato solo l'esterno di questi oggetti, lasciando intatta, per esempio, la guaina protettiva e i fili di rame all'interno dei cavi. Tutte le bruciature poi si trovano ad altezza d'uomo e si trovano sempre nella parte inferiore degli oggetti, quasi come se i fili fossero stati scaldati da sotto. A questo punto diventa abbastanza chiaro che non si tratta di un danno dovuto a un malfunzionamento degli impianti. Certo, conferma cauto Giuseppe Maschio, non si può escludere l'ipotesi del doli. I danni che ho osservato appaiono strani anche a me. Le bruciature sembrano provenire più da un riscaldamento esterno che dà una scarica elettrica. Ma stiamo ancora elaborando i dati del monitoraggio e credo sia presto per trarre delle conclusioni. Si è trattato di fenomeni di brevissima durata che andrebbero studiati mentre si verificano. Forse lasceremo qui a questo scopo un sistema di monitoraggio permanente. Chi invece non vuol sentire parlare di dolo sono gli abitanti. Qualche episodio è sembrato strano anche a noi, mi dice Pezzino, come la storia di quella sedia che sarebbe bruciata da sola. Facile che quel fenomeno fosse simulato. Ma il resto è tutto vero e per tutelarci da questa illazione abbiamo nominato un avvocato e chiesto l'intervento del procuratore della Repubblica. Gli esperti del CNR sembrano propendere inizialmente per un'ipotesi naturale. Avete presenti i fuochi di Sant'Elmo? chiede Giovanni Gregori, primo ricercatore del CNR e docente di fisica terrestre. E' quell'alone luminoso che si manifesta sulle estremità puntite a causa di un aumento anomalo del campo elettrico. Ebbene, credo che a Caronia sia successo qualcosa del genere. Nel sottosuolo una grande quantità di energia geotermica è capace di risalire verso la superficie terrestre attraverso vie preferenziali che culminano nelle punte. Si formerebbero in sostanza delle scariche elettriche invisibili tra il suolo e la ionosfera, che di solito non fanno danni, ma che per una coincidenza curiosa hanno colpito le case di Canneto. Infatti si è scoperto che il luogo principale in cui si è verificato il fenomeno non era costruito in cemento armato e quindi non era schermato elettricamente. Per questo motivo l'elettricità non si è dispersa, continua l'esperto, ma ha colpito i cavi elettrici che fungevano da schermo. Quando i cavi sono stati rimossi, le scariche hanno colpito le parti più aguzze, quindi i chiodi che reggevano lo scaldabagno, le molle di un letto e così via. La mia teoria spiegherebbe anche perché i fenomeni si verificavano solo di giorno, quando cioè la ionosfera è più bassa e più attiva. Per risolvere il problema, Gregori suggerisce che si dotino le case di parafulmini e di buoni impianti a terra. Se si farà così, si vedrà che il fenomeno scomparirà e la gente potrà vivere tranquilla nelle proprie case. È una spiegazione interessante, ma c'è qualcosa che non mi convince. E così chiamo Tullio Regge, l'emminente fisico, professore emerito alla Facoltà di Ingegneria di Torino, oltre che membro del CICAP. Sono molto perplesso, mi dice. È un'ipotesi interessante, ma poco plausibile e bisognosa di maggiori dettagli. È quello che mi conferma anche l'astrofisico Gianni Comoretto dell'Osservatorio di Arcetri. La teoria di Gregori è certamente sensata quando si tratta di spiegare la nascita dei vulcani. Però, da quanto ho capito, si tratta di punte di corrente larghe decine o centinaia di chilometri e che comunque non producono scariche elettriche, ma correnti. Queste potrebbero tranquillamente far saltare impianti o elettrodomestici, se venissero intercettate dalle linee elettriche, ma mi sembra difficile abbiano intensità di campo tali da far scoccare fulmini su un chiodo. Reparto da caronia con qualche forte sospetto, ma senza avere una spiegazione definitiva in tasca. La situazione nel paese intanto sembra tornata sotto controllo e grazie al piano di rientro in sicurezza predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale, gli abitanti si sono preparati a tornare nelle loro case. Ma non tutti sono tranquilli. Uno degli abitanti, Carmelo Casella, mi telefona. Ascolti me, qui vogliono nasconderci, la verità, mi dice. Secondo me si tratta di qualcosa di grosso, un satellite militare, ora disattivato, o un sommergibile nucleare che navigava a largo. Se è stato così, ora hanno messo tutto a posto e non ce lo diranno mai. La palla passa intanto a Marco Morocutti, del gruppo Sperimentazioni del CICAP, esperto di elettroniche ed impianti elettrici, che inizia ad approfondire gli aspetti tecnici della vicenda insieme a Sergio Conte, un operatore telecom coinvolto proprio nelle primissime verifiche sul posto. L'ipotesi più concreta che ne esce sembra sempre di più quella del dolo. Anche Morocutti, incaricato da un programma televisivo, va a Caronia per accertare di persona quanto gli avevo anticipato e quanto poi gli ha raccontato il tecnico. Questi reperti sono stati prelevati sul posto da un solerte tecnico della telecom che mi li ha fatti avere e ha notato subito qualcosa di strano che si vede per esempio anche qui. Cioè, ha notato subito che tutti questi danni hanno lasciato integro il rame e anche l'isolante. Anche lui può verificare che tutti gli oggetti esaminati, nessuno escluso, mostrano solamente bruciature dovute esclusivamente a una fonte di calore appiccata dall'esterno, come nel caso di una fiamma, di un accendino, mentre in nessun esemplare si sono osservati danni dovuti a riscaldamenti dall'interno, come invece sarebbe avvenuto se le cause degli incendi fossero state di natura elettrica o elettromagnetica. L'ipotesi del dolo si fa sempre più solida. La nostra conclusione, come CICAP dunque, è che a causare le misteriose combustioni di Caronia non siano campi elettromagnetici, correnti elettriche, microonde, strane interferenze con la ferrovia e chissà cos'altro, bensì la mano di qualcuno, che per qualche motivo, fino a quel momento ignoto, ha dato fuoco agli impianti. Gli incendi hanno mano umana e di conseguenza bisogna semplicemente, si fa per dire perché è complicato, fare degli appostamenti e trovare chi è che sta dando così tanti problemi agli abitanti di Caronia. Come è facile immaginare, la nostra ipotesi suscita reazioni indignate sul web. In pratica, gli abitanti di Caronia sarebbero dei piromani talmente malati che dal 2004 si dilettano a bruciare e ricostruire le proprie stesse case. E lo stesso Nino Pezzino, alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se potevano esserci degli interessi da parte di qualcuno ad appiccare gli incendi, aveva ironicamente risposto, sì certo, come no, per mesi siamo stati al buio, il valore commerciale delle case è colato a picco. Capisco perché queste persone, questi anziani, io e gli altri dovremmo ingendiare le nostre case. Quello che ancora non si sa però è che a indagare non è solo il CICAP, ma anche c'è una terza, forse ancora più improbabile, quella dell'attacco alieno. Nell'ottobre di quell'anno, infatti, il settimanale L'Espresso riporta il parere di Francesco Mantegna Venerando, coordinatore regionale del Comitato della Protezione Civile Siciliana. Secondo Venerando, Canneto di Caronia sarebbe stata colpita da fenomeni elettromagnetici di origine artificiale, capaci di generare una grande potenza concentrata. Fasci di microonde a ultra high frequency, compresi nella banda tra 300 MHz e alcuni GHz. Per produrre una simile quantità di energia, una macchina dovrebbe raggiungere una potenza tra i 12 e i 15 GW. Niente, insomma, che esista su questo pianeta. Il lavoro dell'Equipe di Venerando ha prodotto addirittura un dossier riservato, consegnato al governo, nel quale si faceva chiaramente l'ipotesi degli esperimenti alieni. Aperte virgolette. Tecnologie militari evolute, anche di origine non terrestre, potrebbero esporre in futuro intere popolazioni a conseguenze indesiderate. Gli incidenti di Canneto di Caronia potrebbero essere stati tentativi di ingaggio militare tra forze non convenzionali, oppure un test non aggressivo mirato allo studio dei comportamenti e delle azioni di un determinato campione territoriale scarsamente antropizzato. Chiuse virgolette. Ma come dicevamo, è la magistratura siciliana un anno dopo a porre la parola fine a questa storia, giungendo, guarda caso, alle stesse conclusioni del CICAP. I misteriosi incendi di Caronia, insomma, sono opera dell'uomo. Il 12 giugno 2008 i periti, nominati dalla procura tre anni prima e che avevano continuato a indagare, hanno chiuso l'inchiesta. Dietro a quei roghi c'è la mano umana, hanno spiegato, prendendo come prova alcuni degli episodi che si erano verificati nei mesi dell'emergenza. I consulenti hanno parlato di fiamma libera, vale a dire manovrata dall'esterno, come quella per l'appunto di un accendino. Sono state sconfessate così tutte le ipotesi più o meno fantascientifiche, che a lungo erano state condivise dai vari esperti, secondo i quali non bisognava nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi del dolo. E tuttavia non viene individuato un colpevole, il caso viene archiviato. Ma non per molto. La vita a Canneto sembra tornare alla normalità, ma il 14 luglio 2014 le fiamme ritornano. Tappeti, televisori, frigoriferi, magliette, scarpe, muri. I 30 metri di via del mare sono nuovamente invasi da odore di bruciato, coperte nere, mobili rovinati. Solo che adesso c'è una svolta. Il 25enne Giuseppe Pezzino viene posto agli arresti domiciliari, mentre il padre Nino riceve un avviso di garanzia. Ancora qualcuno sostiene che si tratterebbe di tentativi per nascondere esperimenti militari. Ma per gli inquirenti della procura di patti non ci sono dubbi, almeno per quanto riguarda gli incendi più recenti. Telecamere nascoste hanno infatti ripreso il giovane mentre appicca ben 40 incendi solamente tra il 20 luglio e l'8 ottobre 2014, spesso con la complicità del padre. Addirittura il ragazzo è stato ripreso mentre dava origine a un incendio nella cantina della propria casa, a beneficio di una troupe televisiva che stava intervistando il papà. Il movente potrebbe essere proprio la richiesta di aiuti economici per i cittadini colpiti dalla calamità, di cui Nino Pezzino era portavoce. Ma non va neppure sottovalutato il fatto che, quando tutto era iniziato nel 2004, Giuseppe aveva 15 anni, età in cui spesso si manifestano comportamenti adolescenziali che danno origine a episodi di danneggiamento, indicati tipicamente come poltergeist e spesso attribuiti a ipotetici spiriti burloni. Come sapete, ne abbiamo già parlato anche in altri episodi. Tutta la vicenda, insomma, potrebbe aver avuto origine in seguito a piccoli episodi di vandalismo sfuggiti poi di mano e trasformati in un caso nazionale perché non riconosciuti da nessuno come tali. Il 5 aprile 2015 la procura di patti ha concluso ufficialmente le indagini e Giuseppe e Nino Pezzino sono stati rinviati a giudizio con le accuse di tentata truffa e allarme sociali, avendo appiccato i fuochi al fine di accedere ai rimborsi dei fondi. Nell'ultima udienza che si è tenuta nell'ottobre del 2021, il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di sette anni di carcere per Giuseppe Pezzino e di due anni per il padre Antonino. Toccherà poi ai legali dei due imputati illustrare le tesi difensive e quindi seguirà la sentenza. Caso chiuso, dunque? Per chi vede misteri e complotti ovunque, assolutamente no, anche nel caso in cui si riuscisse a stabilire con certezza che padre e figlio furono fuori di dubbio i responsabili dei fatti del 2014, questo non dimostrerebbe automaticamente che anche gli episodi iniziali del 2004 furono provocati dagli stessi protagonisti. Ma tutti gli indizi confermano comunque che anche quella volta dietro gli incendi c'era stata la mano umana. E ancora una volta si dimostra valido l'assunto di Sherlock Holmes, secondo cui prima di immaginare fantasme o spiegazioni sovrannaturali per spiegare un fatto misterioso, occorre tenere i piedi ben saldi per terra e cercare di verificare prima ogni spiegazione razionale. Ed è proprio quello che anche a Caronia alla fine è stato fatto. Io vi ringrazio di avermi accompagnato nell'indagine su questa vicenda che tanto aveva fatto parlare di sé nel nostro paese e non solo. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia Isola del Mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro. Grazie a questo sostegno è possibile realizzare questa serie e tutti i video che condivido gratuitamente qui sul mio canale. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video e, se verrete anche voi, potrete leggere presto anche il vostro. Ringrazio anche chi arriva su Tipeee e ci sta aiutando a costruire un giro di incontri per l'Italia con i naviganti. E per finire vi ricordo il mio nuovo libro, geniale, in cui racconto quello che il mio maestro James Randy mi ha insegnato. E tra le 13 lezioni sull'arte di vivere e pensare spiego anche perché dobbiamo abituarci a pensare come Sherlock Holmes. Uno degli aspetti che mi piace approfondire nel libro è quello di imparare a pensare in maniera razionale, un po' come appunto faceva Sherlock Holmes nelle sue indagini, quando scopriva il colpevole di un delitto e lo faceva non tanto con l'utilizzo di chissà quali strumentazioni scientifiche, che all'epoca ovviamente non c'erano nemmeno, ma utilizzando soprattutto il cervello e la sua capacità di ragionamento. Quindi gli strumenti logici di ragionamento, di verifica delle affermazioni, svilupparli, ecco, è qualcosa che tutti noi dovremmo riuscire a fare perché ormai viviamo in un ambiente informativo tale per cui siamo bombardati costantemente da notizia, da informazioni e non è facile sempre distinguere quali sono attendibili e quali non lo sono. Abituarsi a pensare in questa maniera che guarda le prove, guarda i fatti anziché a quelle che sono le opinioni oppure le emozioni che ci scaldano ma che annebbiano le nostre capacità analitiche è il modo migliore per non farsi abbindolare. Quindi l'attenzione a questo aspetto percorre un po' tutto il libro. E dunque vi invito a leggerlo e spero che quello che ho imparato da Rendi possa tornare utile anche a voi. Per ora ci fermiamo qui e ci ritroviamo lunedì nuovamente con la stanza delle meraviglie e con strane storie ci rivediamo venerdì prossimo. A presto. Lo sa questa vicenda mi ricorda la storia della gallina. Ma quale storia? È quella della gallina che va dal veterinario. E allora? Beh mentre lì che aspetta la gallina fa l'uovo. Arriva al veterinario, li vede entrambi e chiede chi di voi due è arrivato prima? Capisce? No ma ormai ci ho rinunciato guardi. No ma ormai ci ho rinunciato guardi.